più banale ecco, questo voglio sentire l'incarico disse punteremo i piedi in Europa salutò la vittoria di Tsipras come speranza politici sull'importanza che la Grecia rimanga nessuno ha chiesto da quando c'è il governo era la proposta di una decontribuzione legata ai contratti anche il contratto di lavoro a tutte le crescenti il presidente dell'Inps e parlava di regalo agli imprenditori per fare diventare un milione di persone in due anni da contratto a tempo grazie